Questa confezioncina contiene 15 ml del fluido a specchio più riflettente Io direi di aprire questa scatolina perché sono molto molto curiosa Ed ecco qua la boccetta che descrive un po' se stessa già per il fatto che è fatta di alluminio Un po' come dovrebbe sembrare il fluido che sta al suo interno Andiamo a vedere questo colore Mi sono procurata due fogli, uno liscio, uno ruvido Vediamo come si comporta sulle due superfici Quindi se come da aspettative sul foglio liscio si comporterà meglio che su quello ruvido Da quanto vedo sulla carta ruvida è molto meno riflettente che su quella liscia Però sebbene l'effetto riflettente sia secondo me meno forte La trama del foglio rende forse tutto più interessante Volevo fare un ultimo test giusto per avere un metro di paragone Quindi giusto per provare ho deciso di dipingere anche questa boccetta di Ecolai Ma è fantastico